Una foto postata da Sonia Bruganelli sembrerebbe confermare la possibile storia d'amore fra lei e Angelo Madonia Dopo una storia d'amore lunga 21 anni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno comunicato il loro divorzio lo scorso giugno I due sono rimasti in buoni rapporti ma pare che l'opinionista de' L'Isola dei Famosi? abbia trovato di recente un nuovo amore Si tratterebbe del ballerino di Ballando con le stelle Angelo Madonia Non è arrivata ancora alcuna conferma o smentita dai due protagonisti, tuttavia una foto postata come Stories dalla Bruganelli negli ultimi giorni sembrerebbe confermare la sua relazione con il ballerino Ecco perché. La foto di Sonia Bruganelli sembrerebbe confermare la relazione con Angelo Madonia Una tavola ben apparecchiata con centrotavola di fiori freschi, due calici di vino e un piatto che appena si intravede. Questa è la foto postata da Sonia Bruganelli di recente come Stories su Instagram La donna, con molta probabilità, si trova ad una cena elegante, visto come è apparecchiato il tavolo Certamente è in compagnia, perché i calici riempiti di vino o champagne sono due C'è chi scommette che con lei ci sia il ballerino di Ballando con le stelle Angelo Madonia, con cui si sospetta che abbia una relazione da qualche tempo Non c'è nulla di confermato ma questa romantica Stories postata da Sonia, probabilmente vuole dire qualcosa I rumors di una relazione fra l'ex di Paolo Bonolis e Madonia, ex di Emma Stoccolma, si sono rincorsi nell'ultimo periodo Pare infatti che i due si conoscessero già, dato che Madonia abita in una casa che gli ha affittato proprio Sonia Bruganelli Non solo, hanno trascorso anche alcuni giorni insieme a Palma di Mallorca perché la Bruganelli è stata invitata ad assistere ad una puntata di Bailando con las Estrellas La versione spagnola di Ballando con le stelle, dove Madonia balla in coppia con una celebrità spagnola Inoltre da alcune paparazzate, si vedono i due in momenti diversi mentre entrano ed escono dal portone di casa di lui Altre foto dei paparazzi li hanno beccati in giro per Roma, insieme ad amici, o da soli A questo punto sembra che manchi solo l'ufficialità, ma la loro relazione potrebbe essere davvero concreta E la foto postata come Stories dalla Bruganelli potrebbe essere un altro indizio che lo conferma